Reperti archeologici, opere d'arte, preziosi pezzi di antiquariato, beni di valore archivistico e librario. I sequestri operati nell'anno della pandemia hanno superato il valore economico stimato in oltre 1,5 milioni di euro. E il bilancio dell'attività svolta in Puglia e Basilicata dai carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Bari. Nel corso dei 12 mesi, 90 persone sono state denunciate per ricettazione, detenzione di materiale archeologico e contraffazione di opere d'arte. Tali attività hanno trovato un florido sbocco nel commercio online. L'illecita compravendita d'arte ha permesso il recupero di oltre un migliaio di reperti archeologici risalenti tra il IV e il II secolo a.C. Sequestrati documenti antichi trafugati dall'archivio diocesano di Biceglie e uno stemma araldico in marmo, risalente al XVIII secolo, trafugato sempre a Biceglie nel 92, ritrovato in un negozio di antiquariato di Riva del Garda. Ulteriori danni al patrimonio culturale delle due regioni deriva dalle attività di scavo clandestino. Gran parte dei reperti, infatti, vengono illecitamente trasferiti e immessi sul mercato estero. Grazie a tutti.